Era previsto quest'oggi l'incontro tra amministrazione comunale e il vertice della società Sidigas per quanto riguarda le questioni Pala del Mauro e Stadio. Ovviamente in questo momento tutto è stato posticipato, quantomeno rinviato per la questione inerente della fabbrica ICS di Piano d'Ardine e il rogo che si è scatenato intorno all'ora di pranzo. In rappresentanza della società ci sono all'interno della prefettura la di Scalella e il presidente Mauriello che hanno colloquiato con il sindaco Festa ma principalmente e soprattutto di quel che riguarda il rogo di Piano d'Ardine. Il rogo scatenatosi all'ICS tra l'altro ha causato nel pomeriggio anche un cambio di programma per l'Avelino Calcio che ha cancellato l'iniziale allenamento previsto sul Manterboso del Partenio Lombardi e ha effettuato una seduta esclusivamente di palestre e video. Un pomeriggio che era iniziato presso Palazzo di Città con Mariello che dopo un breve colloquio con l'assessore allo Sport Giacobbe si è recato in prefettura dove è stato raggiunto appunto dalla di Scalella. Delle questioni inerenti lo stadio Pala del Mauro si parlerà in un secondo momento dopo che sarà passata l'emergenza. Così come del futuro delle due squadre che rimane legato all'intenzione e alle vicende della Siligas che per il momento porterà avanti entrambi gli asset per quelle che sono le possibilità del gruppo partenopeo. Discorsi rinviati in ogni caso almeno di qualche ora.